Il giudiziario, in un paesetto isolato, alla stazione ci raggiunge un altro benvenuto, ed era un boscaiolo tedesco che poi sarebbe diventato il nostro capogruppo. Andavamo in questo carcere, tutto nuovo, avevamo ognuno il pagliericcio, no, avevamo il materasso, il materasso viene di lana vegetale, avevamo il letto che si ribaltava, mi sembrava di stare all'albergo. Che avevano fatto questo? Avevano tolto di mezzo tutti gli elementi capaci di organizzare, e tutti quegli elementi che potevano organizzare, quindi provocare rivolte, eccetera, via. E quindi è rimasto lì. Qui abbiamo la fortuna. Prima di tutto il guardiano. Lui era il carceriere, lui e la moglie, erano tutti e due carcerieri. Però per il lavoro, mentre noi andavamo a lavorare fuori, c'erano due carcerate tedesche, che erano addette alla pulizia delle scende. Io mi sentivo in albergo, e andavamo a raccogliere il fieno, andavamo a zappare l'orto, tutte loro, spaccare la legna. Una di queste due tedesche, Luisa Geldero, che era un'infermiera, era carcerata perché aveva venduto delle siringhe di eccitante, non so di che cosa, e il ragazzo è andato. E si era innamorata del Bruno Italiano, senza denti, 35 kg di lesumi, io ho detto che cosa era. Io andavo in Italia, andavo in cantina, perché ero un movimento, andavo in cantina, lo portavo a un luogo nascosto, lo portavo a città di pane, lo portavo a cucchiaino di margherina, e cominciai a riprendermi un poco. 2 giugno, 2 maggio, la quale c'era che contava, ascoltava la violenza tutto quanto, e ci veniva riferire, che aveva perso due figli, e odiava il nazismo proprio, mi dicevano dei francesi che erano stati detenuti, ma che lavoravano ancora nella zona, gli disse che era stato sempre, così, fin dall'inizio, lui era un antinazista, questo vecchio, e lui ascoltava la radio, e la sera ci veniva a informare del progresso delle truppe d'occupazione che arrivano, la sera del 1 maggio, se andiamo a battere la notte verso le 11, così battere in violenza al portone delle carceri, la guardia che risponde dall'interno, però non apriva, una pattuglia di giovani SS, l'arzi faccia, perché Himmler doveva a questo vecchio la vita, e lui sentì che si opposi con rigore a questa, a questa tendenza, e lui disse, io non posso consegnarvi i detenuti finché non ho un ordine scritto del giudice, come si protettore, del giudice che sovrasta, che sovrintende al carcere, ordine scritto, sennò io non mi scomparvero. La sera, maggio, la guardia ci ha detto, guarda che stanno qui nei dintorni americani, e io mi aggrappai alla grata, era gelato tutto, freddo, c'era tanto di neve dove stavamo qui, la notte sento soltanto un fruscio che si ferma sotto la finestra, e io stavo aggrappato all'inferiato per vedere, per la disperazione, mi sento niente. La mattina dopo, sento a aprire con il mio lenzo in carcere, e vedo questo vecchietto, tanto così perché da un colosso canadese, che era arrivato, erano passato la notte sotto il carcere, la mattina erano fatta aprire, e andarono dentro. Alla prima cella c'erano i cecoslovacchi, siete liberi, la seconda cella, altri due cella, siete liberi, arriva in cella mia, tu che sei? Italiano. Figlia la guardia, me lo buttano in braccia, mi sbatte alla porta, tu resta dentro. questa guardia, il poveretto, la fece una montarena, a prescindere dal fatto che, che era stato un uomo buono, perché da per tutti i sogni, c'erano anche le persone sane. mamma mi dice, perché dice, guarda, ho perso due figli, non mi resta, dovrò passare il resto della mia vita in carcere, perché ho fatto il guardiano, che è stato un uomo buono, ma non lo spero di novere, perché era un uomo buono. E così, dopo, ho preso il mio nome, questo qui, e sullo scritto, un'angentina, è Santo Pio. c'erano, i celoslovacchi liberi, le porte delle celle liberi, dovevano entrare, uscire quando potevano, finalmente potevano mangiare a moto loro, i pacchi che loro ricevevano regolarmente, cosa e cosa fredde, in quel bailamme, dalla celoslovacchi, rimandavano i pacchi, i pacchi arrivavano e venivano consegnati ai carcelati. Io, mai c'essi ricordare di me, vabbè. Aprivano i pacchi, poi è seduto ognuno sul suo letto, ognuno guardava le sue cose.